Oggi voglio raccontarti una storia. C'era una volta una mamma. Una mamma che attendeva un incontro meraviglioso. Il più grande amore che si potesse immaginare. Era davvero felice, ma alle volte le paure prendevano il sopravvento. Ce la farò, si chiedeva. Saprò come fare e se rimanessi sola. Ma fu proprio in quel momento, fra quelle domande, che la mamma incontrò un'amica. Un'amica che sapeva coccolare, rassicurare e che in un battibaleno scacciò via tutte le paure. La prese per mano e come per magia la accompagnò in una casa aperta a tutte le mamme e i papà, dove trovare conforto e consigli fino all'arrivo del grande giorno. Casa Chimea. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.